bella a tutti ragazzi benvenuti su mix game studio io sono vicky e oggi voglio portarvi un video consiglio consiglio su come poter mettere l'arma che desiderate con la mimetica che desiderate sul vostro specialista per farlo è molto semplice vi basta premere start andare su maestro d'armi e qua scegliere l'arma che desiderate mettere al vostro specialista per esempio il cuda cliccate su cuda e fate crea variante inserite il nome che volete io per esempio adesso metto gg conferma e ora non vi resta che mettere gli accessori che volete le ottiche che volete e soprattutto la mimetica io per esempio metto quella battaglia fate salva e ora non vi resta che andare su partita pubblica specialisti personalizza e mettere mostra arma qui andrete su quella che avete selezionato ad esempio il cuda selezionate la vostra arma con la mimetica ggg e ora il vostro specialista impugnerà l'arma che voi desiderate non è molto difficile però ho visto che molti non lo fanno perché credo non sappiano come farlo quindi ho voluto portare questo video per spiegarlo nel modo più semplice possibile ok ragazzi il video termina qua vi ricordo di lasciare like commentare e iscrivervi se non l'avete ancora fatto io vi saluto ciao ciao